Benvenuti al canale Lady Gossip, il luogo ideale per svelare i dettagli più intriganti delle vite delle celebrità. Oggi entriamo nel mondo affascinante di Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi, una coppiata che ha catturato l'attenzione degli esperti di gossip. A quanto pare, secondo le indiscrezioni di Alessandro Rosica, c'è stata una storia passata tra Stefano e Antonella, una frequentazione di cui Belen, l'ex moglie di Stefano, era al corrente. La scintilla si sarebbe accesa durante un presunto flirt di Stefano con Alessia Marcuzzi, che avrebbe portato Belen ad allontanarlo dalla loro casa. Tuttavia, nonostante ciò, Stefano e Antonella sarebbero rimasti in buoni rapporti, sebbene abbiano smesso di seguirsi sui social per ovvie ragioni. Dopo l'esperienza al grande fratello VIP, Antonella Fiordelisi ha avuto l'opportunità di incontrare Belen Rodriguez, evento che ha scatenato ulteriori pettegolezzi. La vicinanza di Antonella a Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di Luna Marie, insieme a presunti flirt con Ignazio Mosere e lo stesso Stefano De Martino, ha alimentato il fuoco del gossip. La situazione ha preso una piega interessante dopo un'intervista di Belen a Domenica Inn, in cui ha rivelato tradimenti di Stefano De Martino. Un commento provocatorio su Instagram ha dato il via a un nuovo capitolo di gossip, con Belen che ha confermato le voci su un presunto flirt passato con Alessia Marcuzzi. Ma le sorprese non finiscono qui. Alessandro Rossica, l'esperto di gossip, ha rivelato che Belen avrebbe litigato con Antonella Fiordelisi, togliendole il follow sui social dopo che lui aveva svelato un presunto passato tra Antonella e Stefano. Si aggiunge un altro tassello al mistero con un'indiscrezione mai confermata riguardante un breve flirt tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino nel dicembre del 2021. Stefano avrebbe corteggiato Antonella per alcuni mesi, ma la loro frequentazione si sarebbe conclusa, decidendo comunque di mantenere un rapporto amichevole, sebbene abbiano smesso di seguirsi sui social per evitare ulteriori voci. La trama vincente di questo triangolo amoroso continua a svelare nuovi dettagli, tenetevi pronti per ulteriori sviluppi sul canale Lady Gossip.